Ma il Krabber è bilanciato in questa modalità, eh? Ciao ragazzi, sono Nico, benvenuti in questo nuovo video. Oggi super gameplay nella modalità armati e pericolosi. E abituatevi a questa cosa perché sto amando questa modalità. Tra l'altro, in questa partita abbiamo anche preso il nome della modalità alla lettera e sì, siamo stati abbastanza pericolosi. Io direi che il titolo è abbastanza esplicativo, quindi non perderei altro tempo. Piuttosto vi inviterei, se non l'avete ancora fatto, a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale ma soprattutto a passare su Instagram e Twitch, dove trovate tutti i link, descrizione o primo commento in evidenza. Scrivetemi un commento per farmi sapere della vostra migliore partita in questa modalità e detto questo io vi saluto e vi auguro una buona visione. E iscriviti al canale, lo vedo che non sei iscritto. Diamo fiducia alla mia casa? Ti prego. Vabbè, discretamente, discretamente, dai. Non quittare, non... Fai quello che vuoi ma non quittare. Non quittare, bravissimo. Non pusciatemi subito, please. Eh, puscia subito. Bravissimo! Ti fai anche lui, ti fai anche lui. GG. No, dai, facciamo questi, please. Il temibile è sconosciuto, atterrato. Fino alle due, più o meno, faccio. Cinque di vita, ragazzi. Five HP. Sono veramente scappati così. Riuscirò a prenderla con ferma? Assolutamente, no! Mamma mia! Ripperotti per questo. Potrei aspettare che lo resti? Sono così stronzo. No, no, ho aspettato che lo restassi. Perché ha smesso il rest più che altro. Mi fa emozionare. Via. Ce l'hai un'arma da soffare. No, il pick a scarico, non ci credo. Ti prego, fra. Morti tutti, morti tutti. Grande. Non hanno... Stavo morendo per colpa del bug di Octane, per un'altra volta. Per un'altra fottuta volta. Non so se vi siete accorti. Stavo mirando... Devi restarlo, fra. Stavo mirando il tipo, mi ha finito lo stimolante, mi ha tolto la mira e non potevo sparare. Come sempre. Niente di... Niente di strano. Oh, questo mi piace. Non riesce a farlo in safe. No. Solo a te serve la salute, sì. Uh. Dai. Ah, perché non avrei hit, rip, è vero. Fuori uno. Un'altra. Premo il tasto di espulsione. Il terzo sta qua. Ok. Oh yeah. Quello era l'ultimo... Rip! Ma il Krabber è bilanciato in questa modalità, eh? Mi dicono che il Krabber in questa modalità è perfettamente bilanciato. Non era la testa. No, l'ha preso lui. Che palle! Volevo fare le kill! Maledetto. Mi è partito il ditino sul Krabberino. È la seconda safe. Time to escape from this bad situation. Time to escape from this bad situation. Oh no. Basta fare kill! Pre-hit! Ho confermato? Mi sa di sì, stiamo arrezzando confermato. Ebbene sì. Ti prego, basta. Minchia, se sono messo male. Minchia, se sono messo male. Peccato che me la so giocata di merda per le kill che hanno preso loro. Se no potevo farne 20, tranquillo. Se no potevo farne 20, tranquillo. E per non parlare del fatto che mo' sto senza cura. Nemico individuato qui. Capito. Loco. Versaglio individuato. Fuori uno. Ricarico. Da questa parte. Muoviamoci. Abbiamo un muro e l'anello è laggiù. Ricarico. Eh, push a kick, è scappato. Devo lottare perché ho finito i colpi. Ti prego, abbi un Krabber. Ti prego, abbi un Krabberino. Potrei ancora farne 20? Mi sa di no. Oddio. Oddio, invece sì, se faccio tutto l'ultimo team pure, sì. Dai, state fermi, please. Eh, invece no. E il sogno si infrange così per colpa di... Eh, vabbè, per colpa, tra virgolette. Per colpa dei random che sono stati troppo bravi. Eh, ma infatti... No, no, potevo ancora, ma questi qua hanno deciso di farsi loro questo. Peccato. Peccato, peccato, veramente. Peccato, peccato, veramente. Vabbè, cerchiamo di portarla a casa, almeno, vai. Via. Una piccola gioia, almeno. Ora no, ora decisamente no. In verità, con i respawn portatili giocando, se la sì. Però loro sicuro non ci avranno voglia di farli respawnare tutto, quindi... No. Basta fare chi... No, no, lo deve restare. Eh, vabbè, no. Niente. Posso salire da qua. Avrei potuto farlo restare, ma... No, basta fare chi... Basta, Brite! Basta fare chi... Ti prego. Dove sta? Eh, il bug del stimolante. Guarda quante chi sta facendo! Sono sotto tiro. Basta sparare! Perché con me non picca? Metti la testolina! Per favore, metti la testolina! Guarda, Brite, che push. Non ho parole. Guarda, Brite, che push. No, c'ho da pushare prima di lei. Vai. Molo misso di pick-up e muoio. Ti schino sul pick-up, via! Ok. Ma se tu me lo scannerizzassi... Io ho paura. Per quello è sicuro trollo e muoio. È proprio matematico. Figlio mio, stai 1v3, ma quitta piuttosto. Andiamo da questa parte. Madonna, madonna. Fammi fare i danni, maledetto. Pure i danni mi puoi rubare, no? Vabbè, dai. Ci posso stare? A parte il rocic. A parte il rocic. Comunque, in sta mod, secondo me, le 20 sono fattibili a livelli assurdi. Secondo me, in sta mod, le 20 sono fattibili a livelli assurdi. Perché dopo le 16 di ieri, 18 oggi... Tra l'altro, mi sa... 29 di squadra? 29 di squadra qui random è... È nasty. Vedi, maledetta! 7 kill c'ha! 2 in meno, 2 in forno! 3 in meno, 2 in meno, 3 in meno, 3 in meno, 3 in meno.